Perciò, lo ripeto ancora alla collega Ascani, socialisti hanno da sempre votato, anche nel 2000, contro il finanziamento alla scuola pubblica. Riconosciamo la valenza pubblica delle scuole paritarie, ma siamo contrari al finanziamento e così continueremo a votare anche oggi in questa direzione. Perché concludo, Presidente, è l'ultimo intervento? Perché questo provvedimento regala 100 euro alle famiglie più ricche. Perché nessun limite è stato posto. Che senso ha? C'è qualcuno che crede che i briatori ne siano felici? E' a i briatori che stiamo dando i soldi. E allora, non sarebbe forse meglio destinare queste risorse in attrezzature per la scuola pubblica? E' con questo invito che auspico davvero che possa essere approvato l'emendamento di soppressione di questo articolo. La ringrazio. Avverto anche che i gruppi di Forza Italia e Area Popolare hanno esaurito i tempi previsti dal contingentamento, essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concede a tali gruppi un aumento dei tempi pari a un terzo di quello originariamente stabilito. Col parere contrario di Commissione e Governo, 19.1, votazione aperta. Grazie. 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 Chi è che non riesce a votare?